Ciao da Avsim! Analizziamo Verona-Napoli e Torino-Inter, due partite con due risultati a mio avviso spropositati per quello che si è visto, quindi un pochino ingannevoli. Lo facciamo anche con delle schermate, quindi analizziamo, facciamo un po' di analisi tattica, se così sommessamente e mestamente si può parlare, quella che riesco a fare io, tramite anche Wisecout, con gli strumenti forniti da Wisecout. Per entrare nel mondo Wisecout c'è l'email in descrizione per contattare un referente e scoprire quali sono i piani di abbonamento. Per quanto riguarda le statistiche approfondite di questa partita vi rimando al prossimo episodio della rubrica Serie A Stats, che uscirà martedì con l'andamento e le medie di rendimento di tutte quante le squadre in Serie A, quindi aspettiamo la fine della giornata. Partiamo dall'analisi di Verona-Napoli, abbiamo visto, e quindi facciamo un piccolissimo commento iniziale, abbiamo visto comunque un buonissimo Verona, un Verona che ha delle ottime qualità, delle ottime capacità di aggressività, di recupero del pallone e di costruzione. Se il Verona avesse giocato il primo tempo come ha giocato il secondo, non so come sarebbe finita questa partita, ma comunque il Napoli tra l'altro ha mostrato molti difetti, le andiamo a vedere dalle schermate, molti difetti di posizionamento, di interpretazione anche dei momenti e della partita, e sono contento di Cacuste finalmente titolare insieme allo Botka, e credo si sia visto che possono e devono giocare insieme, sono però un po' deluso dall'utilizzo fatto da parte di Garcia di Lindstrom, perché lo ha inserito in una situazione in cui il Napoli stava soltanto facendo difesa e contenimento e quindi ha un po' sprecato questo giocatore che sa fare e può fare decisamente altro. Per quanto riguarda Torino-Inter, un breve commento lo faccio dopo, quando passiamo a Torino-Inter, ma siccome abbiamo diverse schermate da far vedere, commentiamo le partite proprio attraverso questi fermo immagine che ho deciso di estrapolare analizzando le partite. Il primo fermo immagine di Verona-Napoli è proprio nei primi minuti, e qui vediamo dei buoni movimenti, perché in questa situazione stiamo vedendo, e lo vediamo anche più avanti, la tendenza del Napoli di andare a creare dei triangoli e anche dei rombi. In questo caso abbiamo un triangolo con, praticamente, questo è Mario Rui che è in possesso del pallone, vediamo che lo Botka sta scalando dietro, ma soprattutto chi sta per fare il taglio che ha appena scaricato il pallone è Kvalaschelia che sta venendo dentro il campo, a supporto dell'azione c'è anche Zielinski, e poi dall'altra parte vediamo, appunto, anche Di Lorenzo che chiama palla, e poi ci sono ad attaccare la linea Politano e, naturalmente, Raspadori che era l'attaccante titolare in questa partita. Andando avanti, invece, vediamo una situazione un po' più passiva del Napoli, quindi nella seconda schermata, sempre sullo 0-0, siamo al quinto minuto, dopo lo vedremo anche meglio, situazioni in cui il Napoli, ecco, come vedete, giocatori, vedete quanti giocatori, sono quattro giocatori girati verso la propria porta, anche se Cacuste e Raspadori guardano il portatore di palla, solo Politano si trova in condizioni proattive di tentare di aggredire. Una situazione del genere porterà il Verona anche a creare diverse occasioni da gol e ad andare anche al tiro per questo atteggiamento passivo del Napoli in non possesso. Non c'è riaggressione alta e ci sono posizionamenti che invoiano quasi la squadra ad avanzare, e infatti il Verona nel corso della partita si prenderà coraggio e andrà ad impostare con più tranquillità, praticamente entrando nella metà campo del Napoli con disinvoltura e con molta facilità. Abbiamo poi una situazione in cui ancora il Napoli attacca nel dodicesimo minuto, quindi qui abbiamo Lobot, che anche qui mi interessava far vedere i posizionamenti, le ottime soluzioni che a tratti si sono viste. Qui abbiamo addirittura Quarraschelia in mezzo al campo, e qui è proprio entrato, è appena scaricato il pallone a Lobotka e poi sta facendo il movimento per attaccare davanti. Poi abbiamo Politano molto largo, Di Lorenzo stretto nel mezzo spazio a supportare, addirittura guardate Cacuste che è in linea con Raspadori. Cacuste ha fatto quasi tutta la partita in linea con Raspadori, ha recuperato tanti palloni anche se in ripiegamento in alcuni casi, tanti palloni li ha recuperati anche Lobotka, però poi ha anche condotto palla, Cacuste in avanti, si è inserito in area di rigore, ha avuto anche qualche occasione per tirare, insomma è un'ottima mezzala che ci mette fisico, ci mette anche tecniche e qualità e per quanto riguarda i posizionamenti e le letture tattiche non assolutamente, non gli mancano molte conoscenze, anzi mi sembra un giocatore con molte qualità da questo punto di vista. Nella schermata successiva invece vediamo una situazione che è simile a quella che vi dicevo prima, però qui veniamo da un corner, ok? Quindi veniamo da un corner per cui abbiamo i tre giocatori più arretrati della schermata del Napoli che stanno andando chiaramente in difesa perché sono tra l'altro, tra questi sono Rachmani e Nathan e quindi da un corner i difensori centrali nel momento in cui si perde alto il pallone devono ripiegare velocemente indietro. Il problema è che stanno tutti ripiegando all'indietro, l'unico che prova ad andare in avanti è Lobotka che un attimo dopo qui intercetterà il pallone ma non riuscirà a riconquistare il possesso. Ecco, il Napoli della scorsa stagione con Spalletti in una situazione come questa portava almeno due giocatori a stringere sul portatore per la riaggressione alta immediata. Quest'anno invece con Garzia il Napoli frequentemente in queste situazioni ripiega dietro e quindi si va all'indietro ed è più difficile così recuperare il pallone ed anzi si concede campo agli avversari, si creano insomma dei pericoli, si subiscono dei pericoli. Siamo ancora sullo 0-0 ma questa dovrebbe essere proprio l'azione, questa è l'azione che porta al primo gol, al gol di Politano e quindi qui vediamo che c'è Kvarascheri ancora in posizione, in mezza posizione che sta andando quasi a riprendere il suo posto ma la cosa interessante è il rombo appunto che si va a creare. Quindi abbiamo Raspadori, diciamo vertice alto di questo rombo poi c'è in questo momento Mario Rui che porta palla anche se il pallone si intravede soltanto dietro al supporto c'è Zierischi e appunto Kvarascheri che a differenza della schermata che vi avevo fatto vedere la prima va molto più vicino quindi si crea questo rombo tra l'altro e qui bisognava anche far vedere proprio il movimento in video perché ci sono stati diversi scambi di posizione una bella armonia negli smarcamenti che poi vanno comunque a mantenere anche se con posizioni mobili questi rombi o questi triangoli. Sono strutture importanti per sviluppare il gioco offensivo sono strutture importanti per attaccare il Napoli però non le sviluppa sempre non sempre bene, anzi in alcuni casi è rinunciatario e punta semplicemente a buttare il pallone in avanti in maniera inefficace. Comunque con quell'azione si va in vantaggio ed ecco che invece sull'1-0 al 35esimo con questa situazione di non pressing con questa situazione passiva il Verona andrà al tiro qui si concede un tiro fuori di poco del Verona perché da qui dal difensore si va verso il terzino sinistro e di lì si riesce a penetrare quasi tranquillamente nella metà campo del Napoli che oppone una minima resistenza d'altra parte appunto con i soli 3 davanti contro sostanzialmente 4 senza neanche una vera pressione è chiaro che per un Verona ben attrezzato perché Baroni sta facendo un ottimo lavoro Baroni lo vediamo anche in basso a destra nella schermata che da proprie indicazioni dice proprio di allargare e infatti così la giocata diventa efficace si rischia di subire come fatti si è subito ci sono stati tanti tiri da parte del Verona tante occasioni in alcuni casi permesse proprio da questo tipo di non pressing in effetti ancora sull'1-0 ma siamo al momento prima al momento prima del gol di Quaraschelia del primo dei due gol di Quaraschelia che si trova in un possesso del pallone nel mezzo spazio sul lato opposto rispetto a dove poi si troverà a concludere perché andrà a concludere praticamente dal palo dalla zona di campo letteralmente opposta e quindi abbiamo Di Lorenzo qui nel mezzo spazio che taglia Politano che sta iniziando a fare il contromovimento Raspadori che chiama chiaramente in una situazione come questa seppur il Verona sia sostanzialmente in superiorità numerica perché sono 6 contro 5 le soluzioni sono veramente tante e qui forse anche in una situazione di ripiegamento il Verona ha concesso un po' di campo e quindi il Napoli ne ha approfittato per fare il 2-0 che però fino a quel momento diciamo che il Verona è stato difettoso come dicevo nel primo tempo soprattutto nel cercare di riconquistare il pallone nel concedere gli spazi quindi fino a quel momento ci poteva stare il vantaggio del Napoli era abbastanza giustificato ma non era un vantaggio troppo difficile da conquistare cioè il Napoli ha fatto anche non ha avuto grande fatica nel fraseggiare nel tenere il possesso nello sviluppare e più nel secondo tempo dove ha anche a tratti rinunciato ma l'opposizione diciamo del Verona in non possesso non è stata così incisiva per sintetizzare siamo poi sul 3-0 quindi siamo andati nel secondo tempo e qui si va a concedere praticamente un'altra occasione quindi volevo mostrare questa schermata per far vedere come si andrà ad un cross se non sbaglio comunque ad una situazione d'attacco del Verona e anche qui con una certa facilità perché qui addirittura ci sono due soluzioni di passaggio larghe ed entrambe poi possono andare chiaramente a sviluppare con una sovrapposizione sull'esterno sull'esterno a destra con la difesa del Napoli e anche il centrocampo che ancora una volta scappano all'indietro non riuscendo a fare una riaggressione pronta ed immediata tra l'altro invece da questo rilancio quindi andiamo al sessantesimo quasi cinquantanovesimo da questo rilancio di Meret sbagliato nasce il 3-1 è chiaro che c'è anche l'errore di Rachmani l'errore tecnico di Rachmani ma comunque su una situazione di pressing tra l'altro non male da parte del Verona non pressing altissimo e non non molto organizzato perché abbiamo solo due giocatori davanti il Napoli è costretto a rilancio lungo con Meret che sbaglia tecnicamente ma lì al di là dell'errore di Rachmani aveva comunque concesso un cross pericoloso in una situazione per carità di margine di vantaggio perché nel frattempo non abbiamo parlato ma ha segnato Quara Schelia perché ha segnato fondamentalmente con quella appunto una situazione in cui il Napoli era rintanato dietro sotto la pressione del Verona con un lancio con una verticalizzazione in cui in campo aperto Quara Schelia si è trovato nell'uno contro uno bella esecuzione ma una situazione diciamo passiva difensiva dove il Verona stava provando a costruire e quindi qui altro rischio altro pericolo e poi se andiamo a vedere più avanti il Verona intensifica se vogliamo anche il pressing andando addirittura qui a scappare in due su Meret con un terzo giocatore di supporto anche qui si rischia anche qui si è costretti sostanzialmente o ad allargare subendo comunque la pressione o a lanciare lungo è chiaro che qui se Meret riesce ad allargare su Nathan e Nathan senza subire troppo la pressione fa slittare su Di Lorenzo oppure meglio ancora trova Lobotka tra le linee si sono tagliati fuori tre giocatori del Verona e si può andare in verticale sfruttando la superiorità numerica ma non è stato sempre facile farlo e il Napoli ha sfruttato per esempio per salire il campo ha sfruttato tantissimo la conduzione di palla di Politano la conduzione di palla solitaria di Politano e poco altro in effetti oltre alle costruzioni dei centrocampisti come dicevo si sono trovati anche abbastanza bene Lobotka e Capuste e ancora sul 3-1 altra situazione vedete qui c'è Lobotka che insegue ma qui addirittura ci sono tutte tre le soluzioni di passaggio per il giocatore del Verona perché può scaricare corto laterale può provare a lanciare oltre la difesa cercando l'uno contro uno o addirittura a tu per tu con il portiere e può naturalmente far slittare sulla destra e più continuare ad aggredire quindi questa è veramente una situazione molto pericolosa per un Napoli che di situazioni così ne ha concesse veramente tante siamo già andati parecchio lunghi con il video quindi passiamo subito a Torino Inter per condensare tutto Torino Inter è stata una partita ingannevole ripeto dal punto di vista del risultato è vero che il Torino ha fatto un buonissimo primo tempo ed oltre fino al sessantesimo brutto sfortunato l'infortunio di Schurz che probabilmente ne avrà per parecchio ma il Torino è stato addirittura a tratti ha dominato nel primo tempo riuscendo a tenere il possesso molto di più molto meglio dell'Inter e togliendo gli spazi veramente con grandissima aggressività uomo su uomo creando tante occasioni creando tanti pericoli Inter meno fluida del solito poi c'è stato qualche errore da parte del Torino perché sull'1-0 c'è un errore dopo lo vediamo chiaramente difensivo una leggerezza un vuoto in aria forse proprio il vuoto lasciato da Schurz nella riorganizzazione Juric non è riuscito a sopprire a questa mancanza sul 2-0 c'è la classica azione su corner il classico schema su corner l'altra partita aveva segnato a Cerby con la spizzata di testa dal primo palo l'Inter quando batte il corner da sinistra batte sempre corto con spizzata sul secondo palo quando batte da destra batte sempre lungo sul secondo palo questo ormai l'abbiamo capito e funziona c'è lo schema su corner ma l'Inter non è una squadra che ha solo lo schema su corner ha anche lo schema sul corner dopodiché il 3-0 non ha veramente senso situazione di ripartenza con rigore quindi non lo prendiamo in considerazione neanche ai fini della prestazione ne ai fini veramente del risultato troppo largo veramente troppo largo per quello che si è visto per cui un Inter che ha dovuto affrontare un ottimo Torino un Torino che ha dovuto affrontare una buona Inter però bene così perché i tre punti che sono portati a casa la prestazione da parte dell'Inter comunque c'è stata anche in termini di gestione poi degli spazi di gestione delle energie cioè poche sbavature in realtà poche sbavature difensive più che altro si è sofferto in mezzo al campo si è sofferto nel creare gioco c'è stata grande difficoltà nel creare gioco e visto che poi arriverà la Champions League e tante altre partite va benissimo questo tipo di risultato e di prestazione cominciamo con la prima schermata proprio nel primissimo minuto di gioco per vedere come l'Inter è partita subito molto alta a cercare di aggredire qui abbiamo avuto uno scarico di Milinko Ciosavic sul compagno che è proprio Schurz e in effetti qui le soluzioni ovviamente di impostazione corta ci sono però abbiamo un Inter che parte subito alla grande molto aggressiva successivamente andiamo soltanto nel terzo minuto e vediamo invece l'aggressività del Torino veramente un'aggressività molto alta guardate e qui c'è stato c'è appena stato il passaggio mi sembra di Barella lì laterale per poi cercare quindi di aprire un po' di non trovarsi chiusi spalle alla line laterale o spalle all'avversario qui il tentativo sarà di verticalizzare su Turam che non riuscirà a tenerla e quindi si perde il possesso e quindi vedete l'efficacia anche di questo pressing del Torino portato veramente all'estremo già nei primissimi minuti di gioco al quinto al sesto minuto troviamo un'altra situazione di pressing dell'Inter ben posizionati tutto sommato per schermare anche qui uomo su uomo per ancora una volta Schurz tra l'altro aveva fatto un'ottima partita nel cercare di togliere le soluzioni però poi il Torino è riuscito a verticalizzare è riuscito a portarsi spesso nel metà campo dell'Inter e l'Inter ha dovuto riposizionarsi l'ha fatto però con maggiore organizzazione ed efficacia rispetto per esempio al Napoli che come dicevo slittava un po' troppo all'indietro andando nello nono minuto quindi nei primi minuti abbiamo la maggior parte delle schermate che ho voluto evidenziare perché secondo me qui si sono viste le situazioni tattiche più interessanti ecco qui per esempio vedete la difficoltà nel giocare questo è Defray che ha Acerbi vicino dopodiché sono tutti schermati tentare il taglio il lancio tagliato lungo su Di Marco che sta aggredendo lì davanti con Lautaro a supporto e Turam che sta tornando indietro è veramente difficile e quindi qui come fai tanto è vero che questa azione porterà poi non ricordo se Defray o Acerbi a passare il pallone all'indietro dopo questo possesso si torna dietro perché non c'è non c'è soluzione e guardate questi sono tutti praticamente i giocatori del Torino meno uno che nei secondi successivi appunto quando si tornerà indietro rientrerà entrando in inquadratura ma sono nove giocatori su dieci non bassi ma guardate come hanno chiuso gli spazi questa è stata la difficoltà dell'Inter in tutto il primo tempo per cercare di attaccare ancora nel primo tempo 27esimo minuto infatti vediamo una situazione simile qui vedete che ci sono due giocatori vicino all'arbitro che stanno correndo velocemente perché stanno inseguendo Mkhitaryan che si è appena staccato Mkhitaryan era nella posizione più di mezzo spazio a sinistra si è appena staccato per andare incontro al pallone il giocatore in possesso è Defray e guardate ce ne sono due che gli vanno incontro in realtà ci sarebbe anche Cialanoglu che comunque sta rientrando quindi è comunque uomo su uomo però per dire come il Torino con Iuri ci ha sviluppato veramente benissimo per togliere fiato per togliere respiro per togliere gioco ancora una situazione di grande pressione del Torino qui l'Inter le ha provate veramente tutte nel primo tempo andando con questa giocata in cui si scarica sulla fascia per poi fare la sponda centralmente e quindi il dai e vai sostanzialmente il dai e vai esterno a volte è riuscito questa volta in questo caso per esempio no perché abbiamo il giocatore che sta ricevendo che dovrebbe essere oddio dovrebbe essere dovrebbe essere Pavard forse no Pavard è quello che l'ha data insomma non riesco a riconoscere ma dovrebbe cercare di dare il pallone all'autaro cerca di dare il pallone all'autaro che vedete nel cerchio di centrocampo ma Schurz lo anticipa perché qui è molto difficile dare un pallone preciso però con tutta questa pressione cosa puoi fare è veramente difficile quindi ottimo veramente ottimo Torino siamo ancora nel primo tempo infatti vediamo una situazione in cui è l'Inter a subire l'Inter a soffrire l'Inter a difendere e qui c'è Bellanova che ha fatto una buona partita con Di Marco inspiegabilmente in una posizione sbagliata perché qui Di Marco deve stare sicuramente più alto e più largo proprio per chiudere quella linea non ha senso la sua posizione e qui non si veniva né da calcio di punizione né da corner e quindi a un certo punto si è generata anche un po' di confusione nell'Inter per fronteggiare le consistenti situazioni d'attacco o comunque i tentativi offensivi del Torino soprattutto nel primo tempo andiamo finalmente nel secondo tempo qui è poco prima questa è in realtà proprio l'azione del gol quindi Schurz è uscito è già stato il cambio da qui si arriva appunto al gol di Turam Turam che vediamo addirittura più indietro rispetto al portatore di palla che credo sia credo sia Di Marco con Dumfries che farà l'assist da tutt'altra parte e questo è una sicuramente uno sviluppo migliore perché è chiaro che c'è superiorità numerica da parte del Torino però abbiamo sostanzialmente quattro giocatori senza palla che attaccano la linea quattro giocatori senza palla che attaccano in avanti quindi le soluzioni ci sono basta tra virgolette far slittare il pallone in diagonale come infatti accade lungo la fascia centrale di campo per andare dall'altro lato e si trova poi ecco con un vuoto in aria per la verità l'occasione per il tiro e per il gol verso la fine della partita ci sarebbero state tantissime altre cose da far vedere ma fondamentalmente c'è stato un batti e ribatti ci sono stati i corner a livello tattico non è cambiato molto tranne la fine della partita quando tra l'altro era appena entrato Klaassen al posto di Lautaro anche l'ingresso di Carlos Augusto l'ingresso di Frattesi e qui vedete come l'Inter si è posizionata in maniera differente e molto più sulla molto più sulla difensiva abbiamo praticamente una linea 5 ma qui non è un contrattacco del Torino è una situazione in cui l'Inter non è riuscita a mantenere il possesso e quindi il Torino l'ha riconquistato e con tranquillità è andato nel metà campo e si è trovato un'Inter schierata in questo modo quindi molto in contenimento sicuramente ci sono dei pregi nell'andare a difendere così nello schierarsi così in una situazione di vantaggio qui poi sarebbe arrivato il 3-0 soprattutto appunto per una squadra come l'Inter che deve fare tante partite deve giocare la Champions League deve anche gestire le energie però bisogna anche sottolineare come contro il Torino è stato necessario quantomeno è stato necessario schierarsi così per contenere per evitare di subire anche se poi pure Sommer ha dovuto fare come no le sue parate le occasioni ci sono state e quindi per chiudere davvero questa analisi condensata di due partite spero utile spero interessante ma piuttosto lunga un ottimo Torino davvero un ottimo Torino quanto meno nella prima ora di gioco come giustamente è stato sottolineato quindi come anche il Verona sono squadre che possono dire la loro nel campionato a livello di prestazioni ed ottenere anche dei buoni risultati dall'altra parte vediamo un Inter più che altro in difficoltà non con grossi difetti mentre un Napoli meno in difficoltà paradossalmente ma secondo me con più difetti soprattutto in non possesso più difetti soprattutto in non possesso e si è visto spesso in questa partita il ricorso al lancio lungo alla verticalizzazione un po' disperata ed esasperata poco costruttiva con appunto come dicevo soprattutto nel secondo tempo poche davvero poche soluzioni per risalire il campo e trasformare l'azione da difensiva in offensiva mi fermo vi ringrazio per l'attenzione spero che questi video con le grafiche quindi con delle analisi vi risultino gradevoli interessanti ed utili fatemelo sapere con un like e condividete il video facendo sapere che appunto su questo canale ci sarà tanto calcio da analizzare in questo modo il dibattito prosegue nei commenti e su discord link in descrizione con tante chat per partecipare al dibattito e parlare di calcio iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non lo avete ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese anche per avere anticipazioni anteprime e contenuti extra da questo canale su questa community e seguitemi anche sul mio secondo canale youtube absimaut raggiungibile dal primo link in descrizione ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti